bentornati questo mi sembra un argomento che bene o male interessa un po' a tutti ovvero come si impostano i formati su illustrator allora nel momento in cui andiamo a creare un nuovo documento oppure se state lanciando l'applicativo per la prima volta vi comparirà in ogni caso una finestra di questo tipo qui abbiamo i formati recenti perché io l'ho già utilizzato e questi sono i formati che ho utilizzato di recente ovviamente se è la vostra prima apertura non avrete nessun formato recente cominciamo a vedere i formati che illustrator mette a disposizione di default e vediamo che qui abbiamo una serie di monitor per iphone e ipad se clicchiamo sul più possiamo vedere diversi formati qui possiamo andare a scegliere addirittura l'apple watch possiamo andare a scegliere le dimensioni del monitor del nostro dispositivo selezionando uno di questi template avremo un documento per esempio di 1242 per 2208 pixel che è il monitor di un iphone 6 7 8 è molto interessante perché ci consente di andare a realizzare subito e a colpo sicuro una grafica per le stories per esempio se passiamo al pacchetto web abbiamo una serie di formati che ovviamente vanno bene per gli utilizzi web tra cui abbiamo web grande che ha una larghezza di 1920 quindi 1920 x 1080 è esattamente il formato full hd della maggior parte dei monitor 1920 è importante come larghezza perché di solito è la larghezza delle immagini che si usano negli slider dei siti web per esempio in maniera tale che non sgranino quando vengono visualizzate sui monitor abbiamo per esempio il macbook pro retina 13 pollici che ha un monitor con già una risoluzione maggiore se ricordo bene ha un monitor 4k ma non vorrei dire una stupidaggine in questo caso la risoluzione di 2560 x 1600 pixel a seconda del dispositivo si può andare a colpo sicuro e selezionare già la dimensione giusta che ci serve passiamo alla stampa e qui è molto interessante vedere che abbiamo i formati più utilizzati in assoluto almeno i miei più utilizzati sono senza dubbio il formato a4 il formato a3 e il formato b5 in questa maniera andando semplicemente a selezionare stampa e il template che ci serve non dobbiamo ogni volta ricordarci tutte queste misure di cui vi confesso che io ricordo a memoria solamente la 4 gli altri devo ogni volta starci a pensare perché ancora non me li ricordo bene da oggi in poi potrò non doverli più tenere a mente perché sono già qui abbiamo anche una sezione film e video dove troviamo il 720p con 1280x720 pixel il full hd il 4k addirittura l'8k dopodiché abbiamo grafica illustrazione dove abbiamo cartolina poster e altri formati insomma all'interno di questa prima slide del nuovo documento abbiamo la stragrande maggioranza dei delle dimensioni e dei formati per realizzare le grafiche che ci potranno servire è importante saperlo prima di tutto perché così non dobbiamo sempre tenere a memoria tutti quei numeri inoltre ci può anche venire comodo perché magari io non lo so proprio quanto è grande il monitor di un iphone x nella fattispecie lo sapevo però ce ne sono tanti altri mi possono sempre tornare utili c'è anche l'ipad c'è anche l'ipad retina a seconda del dispositivo su cui vogliamo andare a lavorare c'è tutta una serie di template pre confezionati resi disponibili da adobe grazie tante